Io sono una molto paziente con i bambini, però se esagerano, vi dico cosa faccio. Un po' di limonata e molto barbano, così diventano pacifici come delle pecorelle. Come andiamo? Ok, allora passiamo al prossimo trucco. Oh, spavento passeri, ti va di bruciare un poco. Oh, da dove vieni? Ti ho spaventato? E se brucessi tutta la fattoria? Oh, questo fa paura a me, figuriamoci ai miei figli. Oh, ma sei mio fratello, non ti farai mai mettere nell'imbarazzo. Sei in mani esperto, ora troveremo un'altra soluzione. Io ti benedico. Questo gli dobbiamo rifare tutta la faccia.